Perchè di nascostare? È quella che è passata la moglie del dottore dove lavora, non vuole farmi vedere, allora mi sono nascosta. Beh, oramai il pericolo è passato, andiamo su, va. E va bene. Mi non per il quartiere. Chiarate, stai, non ti fanno stati, non ti fanno... Ma te sei sicura che qui... Ma dai, andiamo. Mario? Sì, comandi. Ah, è lei. Subito. Mi raccomando, discrezione. E soprattutto, niente gridare. Sì, preoccupi. Lei è la prima volta. Io sto con la signora. Condoglianze. Cara, perché mi ha detto condoglianze? Ma no, è un modo di fare gli auguri della casa. Andiamo, cara. Andiamo? Di cosa ti preoccupi? Pazzarellone. Che sarà morto qualche duro da te. Ma no, quello è un burlone, uno che scherza sempre, non ti preoccupare. Ecco.